Dolcetta, porca miseria! Ciao! Eh, dove siamo? Scusa, non ho capito. Perché è tutto così colorato? Anche la tua spada. Allora, è tutto così colorato perché oggi è un minicame bellissimo, ok? Dobbiamo entrare all'interno delle piscine degli youtuber! Guarda quanti ce ne sono! Uuuuh! Ci sono tutti! Sì, beh, non proprio tutti, sono solo quattro su un sacco di youtuber su YouTube Italia. Ma comunque sono praticamente, sì, degli youtuber che dobbiamo entrare all'interno delle loro piscine e dobbiamo scovare i loro passaggi segreti perché tutte queste piscine hanno dei passaggi segreti. Sei pronta? Fantastico! Andiamo a vedere cosa nascondono. Ok, vai, da dove iniziamo? Ovviamente è quello di Lion, ok? Questo qua, guarda, quello è il primo. Ok, tre, due, uno, via! Vieni, dai, mi raccomando! Ok, allora, sì, ci sono degli squid perché purtroppo spawnano ovunque, poi c'è un sacco di inchiostro. Sì, ascolta, uccidili perché mi danno un molto fastidio. Ok. Comunque, hai visto la mia spada, eh? La mia spada d'arcobaleno? Hai visto? È proprio colorata come lì sopra? Sì, 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 è proprio come l'arcobaleno appunto che stiamo di sopra. Sì, assolutamente, è un sacco più forte, dolcetta. Questa non è una spada normalissima in diamante, questa è la spada di arcobaleno, c'hai capito? È la spada che ha tutti i colori all'interno. Sì, sì, esattamente. Vabbè, una ognuno, io quella in bedrock e tu quella arcobaleno. Sì, esattamente. Ok, prendi tutto quello che c'è, mamma mia, guarda quanti squid, buttali fuori così almeno non inquiniamo l'acqua. Ecco, fai così. Hai ragione. Ottimo, perfetto, bravissima. Allora, allora, dobbiamo trovare un passaggio segreto perché ti pare che sei una cavolata. Ma dove può essere? Non lo vedo. Non lo so, secondo me se iniziamo a cliccare col destro, almeno una fessura, un passaggio segreto si apre. Ah, l'hai trovato? Bravissima. Sì, ho schiacciato così a caso. Ok, vieni qua sotto, vieni qua sotto. Oh sciabolette, guarda, abbiamo già trovato il primo passaggio segreto. Vedi questa lava? Questa è una lava bianca, fa ancora più male rispetto alla lava normale. Sbrighi, è un parkour, vero? Sì, lo so, devi essere brava come io. Guarda, è semplice. Dai, bravo, oddio, ma hai preso lo stesso danno. Ascoltami, ascoltami, non morirci, ok? Perché altrimenti non so con chi fare questi altri minigame, ok? Tranquilla. Ok, va bene, va bene, ci provo. Vai. Aia, ok, ora pure io ho preso danno. Sei attenta perché potrei morire da un momento all'altro. Eh, lo so, ma io te lo dico a te, non che tu me lo dici a me. Vai, prova. Vai, bravissima. Uh, ce l'ho fatta, ok. Bravissima, ok, prova adesso, vai nell'altro, dai. Brava, brava, brava. Ok, sta funzionando tutto. Oddio, che cosa c'è lì? Perché? Secondo i piani. Ok, l'ultimo, l'ultimo saltino, l'ultimo saltino che è per semplice. No, 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 no. E ti serve l'acqua? No, 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 no. Ok, 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 aspetta, 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 aspetta. Ok, forse riesco a spegnermi. Ragazzi, soffiate, soffiate. Soffiatevi, soffiatevi. Ah, mio Dio. Sta funzionando, sta funzionando, dai, dai. Sei sicura? Non è che continua a bruciare fino all'infinito adesso? Eh, no, 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 ecco. Avete visto? Ragazzi, ha funzionato Soprattutto perché in questo momento dovete lasciare un sacco di like Se vi sta piacendo questo video Mi raccomando, ci supportate un sacco Quindi mettete il cellulare in versione verticale E lasciate like Soprattutto scriveteci un commento qua sotto Se magari vi piace o non vi piace qualcosa All'interno di questi minigame Sei pronta da oggetto? Andiamo avanti Esatto, dai Ok, vai Poi ci sono dei blocchi invisibili Per quello che sto capendo Credo che in base dove sta il legno Ci sono i blocchi invisibili Dove dobbiamo saltare appunto Ok Ecco di qua Hai visto? Ok, aspetta Bravissima Ok, adesso vado io Oh mio Dio, sembra di essere sopra la lava Sì, beh, sembra di essere Siamo proprio sopra la lava, sciabolette Questo è uno degli ultimi salti, Dolcetta Sono tre blocchi, sono semplici, va bene? Basta credere in te stessa Ok No, lo sapevo Aiuto Aia, 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 aia No, io ce l'ho fatta Aspetta, ti soffio Ragazzi, soffiatemi Soffiate Soffiate addosso il video, ragazzi Soffiate sullo schermo Ok, ok Ha funzionato, ha funzionato, ha funzionato Ottimo Sciabolette, fortunatamente Va bene Ecco, abbiamo la testa di Lion Wow, assurdo Dovremmo metterla da qualche parte, pensi? Sì, credo di sì Probabilmente dobbiamo metterla magari alla fine dei minigame Andiamo, vieni Eccoci qua Ok, perfetto Ce l'abbiamo fatta Che paura Credo che sì Dovremmo andarle a mettere tipo qua alla fine, Dolcetta Vabbè, intanto io la metto qua Ecco, aspetta Però non si vede che è la testa di Lion Ora sì, si vede che è la testa di Lion Eccola qua Perfetto Ecco, perfetto Andiamo a prendere le altre teste degli altri youtuber Sei pronta? Allora Però questa volta voglio vederti fare un tuffo perfetto Sulla testa dello youtuber Steph, ok? Pronta? Ok Ti provo, vado 3, 2, 1 Tuffo di Oppo Carpiato Vabbè, come l'ho detto Ehi, mi raccomando Se ti sta piacendo il video Lascia like Iscriviti al canale Se ancora non ti sei iscritto Perché mi supporteresti un casino così Sì Sì, dobbiamo ripulire tutte queste piscine, Dolcetta Perché altrimenti è brutto È inutile Cioè, nel senso Sono delle piscine così tanto belle Con le facce degli youtuber Ci sono questi squid Dai, su Non va bene Ecco, no Non si fa Non si fa Ok Ok Ora che abbiamo ripulito Passaggio segreto, giusto? Sì, passaggio segreto Vediamo che cosa c'è qua sotto Sott'acqua Vediamo Se clicchiamo sempre qua sotto Da qualche parte Oh, sciabolette Che figata È proprio scelta di un livello Anzi, di due La testa di Steph Ma che cavolo Ok Da qua Oh, sciabolette Questo è incredibile Ascolta Lo faccio prima io Ok Così che magari tu vedendomi Ti insegni Ok? Che ne dici? Ok, bravissima Allora Mi fido Vado Non devi saltare, ok? Non devi proprio saltare Devi fare così Uno Due Tre Quattro E cinque Però devi continuare Oh, cacchio Ci sono degli Steph No, Fri, aspetta Sto arrivato Un po' indemoniati Sciabolette, sono appena morto Sciabolette, sono morto Arrivo, dolcetta Tranquilla Eccomi Allora Dove sei arrivata? Fri, dove sei? Dove sei? Sono qua Allora Beh, direi Allora, dai Ma ancora non sei andata avanti? Dai, provaci Devo, provo Provaci, sì Provaci Vai Continua a correre Continua Devi correre Devi correre Non ci posso credere Aspetta No, aspetta Ma Ti sei teletrasportata Che dolore Sbri, dove sei? Ma ti sei teletrasportata Oppure ti sei Ti hanno ucciso e basta Mi hanno fatto male Mi hanno ucciso Ah, sciabolette Ma poi sono invincibili Ma sono invincibili Ma com'è possibile? Perché come fa Adesso mi sono nata Ci penso io Pure io Ci vado pure io Vai dolcetta Vai Dai Non ci posso credere Ah, ci vado io Ci vado io Ok Attenta Facciamo che ti aspetto qui Ci andiamo assieme, ok? Vai Sì, hanno visto Hanno visto Dolcetto Che uno Pegchialo, pegchialo Mamma, questi botti Veramente sono incredibili Abbiamo preso la testa Scappatene Ottimo Perfetto Ci siamo Wow, ce l'abbiamo fatta Oh mio Dio Sì E questa è la testa È stata così difficile Porca miseria Sì, veramente È stato un sacco difficile Ok, pronta La prossima Non dirmi Che ogni livello Diventa più difficile Sì, mi sta proprio di sì Dolcetto Il livello diventerà più difficile Sciabolette Pronta Questo è il livello di questi giochi Pronta Tre Ok Due Una mia Hai entrato Vieni qua Vieni Arriva Ok Allora Dobbiamo trovare un modo Per andare Sotto la piscina di questi giochi Guarda I questi giochi è l'unico Che non ha gli squid Allora per quel motivo Siamo qua Non dobbiamo ripulire nulla Vabbè Allora vediamo un po' Sopra strano Però qua c'è un blocco invisibile Che ci fa salire di sopra Uh, aspetta Oh, c'è un blocco invisibile Non è che magari È all'esterno questa volta Il passaggio segreto Non credi Prova a schiacciare un pochino Prova pure tu Non lo so Magari trovi qualcosa Non ho la più palida idea Oh, l'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Madonna Chi sei passata tu Dolcetta Dai Sì, ma infatti Ho schiacciato tutto Andiamo Uh, sembra un po' profonda Vai tu Sì, vado io Vado io Vado io Ok Dove cacchio Oh no È un indovinello Dolcetta Eh sì È un indovinello Oh, cavolo Allora Sì Allora 20 e 0 100 per 5 500 Ok Per 1 500 Eh, aspetta Ma Ah, e quanto fa? Diviso 20 o 0 5 Ma dai, ma per 0 Fa 0 Dolcetta Sono tutti i numeri modificati per 0 Fanno 0 Ti stai facendo tutto il calcolo Io ti stavo facendo tutto Allora Chi è il miglior amico dell'uomo? Il cane o l'uomo? Eh Io Io potrei per il cane Io pure Vediamo Appunto è giusto Ok Oh, sciabolette Aspetta Ma se io cliccavo lì al 3 leve Secondo te morivo? Provo? No, no Non voglio provare Guarda Però prova tu io No, no Non voglio provare Andiamo avanti Diciamo che non è scappato niente a passare attraverso questa porta Ok Allora Vai, leggi tu e vedi di Qual è l'ultima console della Nintendo? Nintendo Switch? Nintendo NX O Nintendo Switch? Che cos'è la Nintendo NX? Io non l'ho mai sentita Non so tu Non è mai uscita la Nintendo NX Quindi non credo che Sia quella So che Sbrisalino parla sempre della Switch però Quindi Appunto, ma la Nintendo NX non l'ho mai sentito nominare effettivamente Mai vista Ok Allora In che versione hanno aggiunto la nuova? La nuova? Ascolta Prima la domanda trabocchetto Non la so Non la so La nuova La nuova porta Questa qua La porta è gialla Però è nella mia texture La nuova La nuova Facciamo ancora leva a testa Aspetta La nuova texture Forse texture La nuova texture Eh? Quando l'hanno aggiunta? Tu lo sai? Aspetta La nuova texture Quindi la texture Quella della 1.13 E la 1.13 Ma è stato un trabocchetto assurdo Mi sono fatto dei giri assurdi in mente Aiuto Meno male che ci sei tu Io non ce l'avrei fatta E capendo che effettivamente Io ho la texture cambiata Della porta Ho ricondotto Ricondotto la nuova versione Della texture Allora ho detto Ah allora è texture Ecco perfetto Oh è giusto Sì Ma dolcetto Non credi che stiamo scordando qualcosa? La testa Eh sì Ci serve la testa Eh sciabolette Qualcuno Oh sciabolette ci sono Attento Attento Mamma mia Sono più infuriati di quelli di Steph Questi qua Apriamo e chiudiamo Così Vai 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 Vecino Bravissima mamma mia Oh ma con la spada in bedrock Veramente Ma tu ci direi così in tre secondi Sì 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 Tu quella in bedrock Siamo un sacco Cioè siamo una coppia assurda Siamo un duo fantastico Un duo fantastico Allora esplicio Dai andiamo Ok presa Oh Andiamocene via Andiamo Oh no Non ci credo Oia Mi Esplicio Abbiamo anche la testa di Esplicio Ora Andiamo a prenderci la testa Ok ci mancano l'ultima Sì Quello è un cubo di rubri Ah Gabby Dai Sì vai 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 Pronta Ma se io ti spiego No non mi spingere Stavo proprio per spingere Allora Vediamo un po' adesso Magari si è cliccata qualche parte Oh Ok Ma cosa È salito questo blocco Ma che cavolo È salito questo blocco Cosa dobbiamo farci con questo blocco Scusami Dobbiamo salire sopra il blocco Non pensi Eh ma come Magari c'è qualche altra cosa Che si alza qua Ah tu dici così proprio Sì Ah certo Vedi vedi Te l'avevo detto Ma E adesso Lo so Proviamo un po' come prima Questa volta cerco di stare più attento Allora Sì magari questa volta veramente C'è qualcosa che ci stiamo Scappando Sta scappando Ehm Io non trovo niente qui nel verde Io neanche Dolcetta Non trovo completamente nulla E se dovessimo andare sotto No Aspetta Aspetta Come dovremmo fare Scusami Cosa come Come facciamo Non c'è alcun metodo Ma che cavolo Tranne se Mi servirebbe Mi servirebbe Mi servirebbe Dolcetta Mi servirebbe Un po' di rincorso Onestamente E se ti spingessi io Ah guarda Ma si alza pure questo qua Allora anche questo qua Ho capito E quindi Dobbiamo Dobbiamo fare una rincorsa E saltare dall'altra parte Ciabolette E se non è possibile Sì Dovremmo solo farcela Dai provaci Ehm 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 Vabbè No mi sa che Ecco ma È stra difficile Ma mi sa che è proprio impossibile Ascolta Facciamo così Ecco Tanto Ah Ok Ma non mi riusci Ma se mi arriva a stare i blocchi Ma se mi arriva a stare i blocchi Guarda Rimangono Ma hai fatto proprio apposta Guarda Guarda Se spacchiamo solo quest'altro blocco Poi possiamo farci la schianetta Ma non vale Ma dovremmo arrivarci in qualche maniera Dall'altra parte Mannaggia a me Dai Mi sembrava impossibile Ehm Anche a me mi sembrava impossibile Mannaggia a me Dai Dai Oh Ok ci sto riuscendo Ci sono quasi a giuro Mi sto chiedendo con la strada In Rainbow Ok perfetto Oh Finalmente Oh La testa di Eh vabbè È quella di Di Gabby Solo che è un nome strano di Minecraft Dai Salta qua Ok Oh 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 Bravissima Andiamo Sciapole No Ma perché sempre io Dai vieni Ok È ora che abbiamo preso tutte le teste Credo che forse adesso possiamo andare sulle nuvole Dato che abbiamo preso tutte le teste Forse ok Vediamo Ok E lì si apre la botola Oh si è aperta Si è aperta Bomba Allora andiamo dolcetta Dai Mamma mia che sollievo Ce l'abbiamo fatta Ragazzi mi raccomando Lasciate un sacco di like E lì c'è